Vorresti eliminare la compressione del manico dalla canna da pesca per evitare quei fastidiosi dolori a coscia inguine? Nessun problema, la soluzione è SoftFisher, il primo decompressore inguinale capace di regalarti l'emozione della tua cattura in tutta comodità, dotato di due misferi che ambruttizzano la totale pressione data dalla propria canna da pesca. Basta dolore a coscia inguine, la soluzione è SoftFisher.